Musica Bella ragazzi, qui per voi il vostro 4SpeedLover che vi presenta come si registra un video sulla Playstation 3 o come registro io sulla Playstation 3 e si, se volete, poi faccio anche un video come si registra sul PC in game e qui il desktop e si, allora iniziamo come prima cosa dovete prendere il vostro HD PVR e connetterlo con il vostro monitor o con il vostro TV naturalmente là dovete prendere il cavo che c'era dentro nel pacchetto del HD PVR sarebbe questo cavo qui come vedete io qua utilizzo un adapter ma è la stessa cosa come se mettetelo nella Playstation 3 e nel HD PVR adesso ancora il cavo USB dall'HD PVR nel PC e già dovrebbe funzionare ok, adesso potete accendere il vostro PC e installare il programma Total Media Extreme che si trova sul CD che non dovrebbe essere tanto difficile ad installare quindi questo non ve lo faccio vedere io già l'ho fatto sarebbe questo programma qui e si ok, fatto questo ritorniamo sulla Playstation 3 qui naturalmente non vedete niente anche perché prima avete giocato con l'HDMI o solo con AV vuol dire che non avete nessun segnale sullo schermo una cosa che potete fare è rimettere l'HDMI o AV nello stesso tempo e poi impostarlo sul Component o andate sulla Playstation 3 e accendete la Playstation 3 sul pulsante e lo lasciate premuto poi la Playstation 3 farei questo suono e poi quando guardate sulla Playstation 3 vedete che la risoluzione è adesso peggiore allora dovete andare su impostazioni poi su impostazioni di visualizzazione poi qui andate impostazioni dell'uscita video Composito si no Components scusa cambia adesso me lo cambia schiaccia X poi qui 576P poi 720P e se volete ancora 1080i che sarebbe il massimo che l'HDPVR può registrare andate avanti schiacciate X cliccate su sì poi vedete qui l'impostazione di nuovo X per invio poi configura impostazioni di uscita audio sì adesso su io vado su digitale ottica perché ho l'astro A40 che sa utilizzare questo genere quindi io qua poi utilizzo solo Dolby Digital così posso sentire tutto non so perché posso solo utilizzare questo poi vado avanti nuovo avanti e adesso questo potete lasciare tutto uguale adesso andate su impostazioni dell'audio e qui uscita audio multipla attiva così adesso sentite tutto quindi tramite ottico tramite component e tramite HDMI se volete questo è un bonus che vi fa sentire l'audio se avete per esempio le cuffie potete sentire l'audio tramite le cuffie ma anche quando registrate l'audio c'è anche sul sull'HDPVR sul video se no non c'è quindi questo è importante se avete le cuffie e avete come io le cuffie che hanno l'entrata ottica quindi non component quindi la dovete per forza attivare l'uscita audio multipla e si ok fatto queste impostazioni ritorniamo sul pc apriamo total media extreme poi viene questa finestra clicchiamo su questo button questo adesso dovete mettere aspettare qui mettere su playstation 3 quindi anche se giocate sulla xbox io adesso non so perché ma dicono che m2ts è il miglior formato per registrare io non lo so voi potete anche provare ma io sono rimasto su m2ts quindi poi qui dovete andare su questo button questo e poi andate su queste informazioni su questo button adesso qui è tutto in tedesco ma andate sul secondo e aspettiamo ok qua sopra adesso quando inizia qui potete regolare quante quanti megabyte di secondo deve registrare il vostro il vostro video io sempre faccio 13,5 perché per me è importante avere una qualità un po' altina e non una così sì che non si può vedere quindi qua poi mettete constant bitrate non variable constant per non causare problemi e poi accettate cliccando qua adesso io già l'ho fatto quindi a me non serve adesso qui vedete tutto tutto lo schermo sulla playstation poi qua ovviamente qua scacciate per registrare e qua sotto se scacciate qua o qua come volete potete dire dove deve mettere o salvare il video poi quando avete registrato il video aprite sony vegas io adesso già l'ho aperto l'ho già aperto ok aprite sony vegas che sarebbe qui poi fate un nuovo progetto io normalmente normalmente si apre poi questa finestra prendete queste caratteristiche che sono qua quindi fate un attimo pausa prendete le stesse cose per non perché se no se devo dire tutto diventa un po' lungo quindi scacciate un attimo pausa e fate qui il vostro coso le vostre impostazioni poi qui se andate qui su potete no scusa se scacciate questo e accettate vuol dire che poi su ogni progetto che fate queste impostazioni sono rimaste quindi non dovete fare di nuovo tutto poi io qua vado su video io prendo un video prendiamo questo la model si la metto qua dentro quindi attimo ok prendo la model per esempio qui adesso ho messo questo così ok se vedete qui c'è una linea nera questa la voglio togliere io qua ho il preset vuol dire metto questo e zooma un po' in avanti quindi io qua si può anche mettere solo così normalmente come si vuole io qua ho il preset se lo volete avere come io dovete solo mettere qua su si quindi due volte su si e qua mettete 1897,5 e poi lo fa da solo e avete le stesse opzioni come ce li ho io poi se volete avere i miei color correction e quelle cose là che utilizzo io cercatevi un posticino quello di prima sarebbe stato perfetto si ok qui qui si vede una parte un po' luminosa e qua una parte un po' oscura quindi perfetto andate qui su prendete color correction quello normale poi quello secondario poi illuminazione e contrasti poi adesso questo dovrebbe essere sharpen effect e poi quello subito sopra sharpen effect prendete adesso non so come si chiama quello in inglese prendete quello poi lo mettete dentro adesso avete qui tutti tutti e cinque impostazioni io poi qui ovviamente vado qua su ho i miei presets e qua vi do questo quindi fate se volete lo stesso le stesse opzioni quindi 1,164 poi di nuovo 1,164 poi 1 e poi meno 18,6 poi andiamo sul secondo ho di nuovo il mio preset questo adesso dovete fare voi perché è un po' lunghino schiacciate pausa e poi prendetevi le opzioni poi su qua ho due quindi se la mappa è veramente scura ho questa e se è troppo luminosa prendo questa quindi qua si vede non va bene per questo prendo questo qua ho 0,08 e 0,25 e 0,5 poi qui metto su youtube e ricevo i miei colori come li voglio io qua di nuovo le opzioni schiacciate start se volete le opzioni come ce le ho io e poi andate qui su qua ho solo 0,11 perché troppo non mi piace e così vedete il mio video forse da voi potrebbe essere che lagga perché forse voi non avete un pc un po' possente per questo può essere che il vostro computer non lo regge ma poi quando fate il rendering vuol dire schiacciate due volte così quindi vi fa automaticamente quello che volete quindi qua poi su i dati poi il rendering e poi qua vi faccio vedere il mio coso come l'ho io andate su video poi qui cbr windows media video 9 quindi qua naturalmente dovete prendere anche windows media video 11 quindi vmv si qui ho messo io 1920x1080 potete anche mettere solo 1280x720 come avete programmato qui è uguale come volete voi poi qui ho second pro crayframe a 10 poi qui ho messo ok su 3 qui naturalmente su 100 poi bitrate qua questo non lo so l'ho messo su 10 e qui poi video quality credo si chiama in inglese su best e poi potete scacciare ok e poi su rendering adesso qui fa il rendering poi naturalmente adesso ma non serve per questo io qua dico di no se fate rendering qua sopra potete mettere il vostro nome e si con questo vorrei aver detto tutto spero che vi è piaciuto il video e si iscrivetevi se non avete se non siete ancora iscritti datemi un pollice in su se vi è piaciuto il video se non vi è piaciuto il video un pollice in giù e si ci vediamo alla prossima bella ragazzi ciao ciao